E' di nuovo mattina nel mondo di American Express. Le nostre 50.000 persone sono già in piedi. Prima che il giorno finisca, risponderanno ogni singola richiesta dei nostri titolari, qualunque essa sia. L'impegno American Express per un livello di servizio unico non cambia di una virgola, di giorno in giorno, da paese a paese, in Italia e ovunque nel mondo. Grazie a tutti.